Va bene che è un amichevole, va bene tutto, non 4-0, facciamo proprio cacare, ma ragazzi oggi sarà un video brevissimo perché mi sono rotto proprio i coglioni, ma raga 4 polpette ci hanno fatto, 2 per tempo, ma non abbiamo giocato, abbiamo fatto un tiro in porta in tutta la partita, Vlaovic non si è visto proprio, minimamente la squadra non ne voleva sapere un cazzo oggi, abbiamo perso, abbiamo subito 4 pappine da una squadra che non fa gioco, contro di noi che non facciamo gioco, loro quantomeno in difesa molto più solidi, ma noi vabbè solidi, non facevamo neanche un tiro in porta, arrivavamo in area e tornavamo indietro, ragazzi Shesny è stato bravo, bravissimo, parata super su coche, rigore parato pure, Perin si fa segnare la punizione da 850 metri, vabbè, che erano 25, fa una parata che stava per entrare, il novantesimo, là il quarto, ragazzuoli, dobbiamo giocare così contro il Sassuolo, questa l'ultima amichevole era, il Sassuolo ci spacca il culo, va bene che il Raspadori da loro se ne va, non lo so, 3-0 ci battono così, speriamo di vincere che squadra di merda, non riusciamo a fare un cazzo, vabbè è un amichevole, voi mi state dicendo è un amichevole, la verità di Chiellini l'ha presa a rabbio, ragazzi, è uscito col turpande proprio, e sperando che stia bene per, vabbè, la prima la salta, giusto, sperando stia bene per la seconda, anche se fa cacare al cazzo, Alexandro provoca il rigore per l'atletico poi parato da Shesny, ma Alexandro anche lui una partita di merda si è fatto, come sempre, ragazzi, sulla fascia sinistra non ci siamo, non c'è niente, Lauvic è solo in attacco, a meno che non arrivi Kostic, c'è solo Di Maria, Di Maria non è che può fare tantissimo, poi avrà il mondiale anche, chissà come torna dal mondiale Di Maria, questo, devo andare a mangiare, ciao, ciao ragazzi.